26 giugno 2023 mi fanno il faggio va un po rosicchiato ma per cominciare abeti e faggi 3 4 4 5 5 6 6 8 9 10 Grazie a tutti. Ovviamente di fungaia. Che martelli! Mamma mia! Sani, perfetti, diabete, misto faggio. Per nascondere una piccia mostruosa. Ora la andiamo a vedere, forse questa è andata. Sentiero. Fungo. La S di Stefano. Fungo. 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 Fungo.